Tempo fa mi trovavo in un ristorante sulla spiaggia e avevo ordinato degli gnocchi con vongole e ceci a favola e il cameriere aveva proposto da bere dello champagnino. Cos'è lo champagnino? Io ho pensato dello champagno, invece niente di tutto questo diciamo che vagamente, molto vagamente è una bevanda molto molto semplice, leggermente alcolica adesso me la bevo con voi, anzi la preparo e la bevo con voi. La ricetta è banale, mischiamo insieme tutti gli ingredienti potete usare una qualsiasi gassosa, potete usare il vino rosso al posto del vino bianco in realtà non è neanche parente dello champagno, ma è una bevanda squisita buonissima a cena, prima di cena, dopo cena le proporzioni le decidete voi adesso comparirà il logo del canale su cui potete cliccare se vi piacciono le mie ricette qualche volta semplici, qualche volta un po' più complicate potete lasciare dei commenti, mi fanno sempre molto piacere vi lascio anche il link di qualche altra mia ricetta se volete guardarla e condividerla con amici e parenti carissimi, alla prossima!